Ciao e benvenuto in questo video. Io sono l'ipnotista e stai per scoprire se sei ipnotizzabile. Per prima cosa distendi la tua mano destra o sinistra di fronte ai tuoi occhi. Osserva lo spazio tra le dita e immagina che intorno alle tue dita ci sia un elastico di qualsiasi colore tu voglia. Immagina che le dita possano diventare sempre più strette, lo spazio possa diminuire, l'elastico si fa sempre più forte. Le tue dita è come se fossero magnetizzate l'una all'altra, lentamente lo spazio diminuisce senza nessuno sforzo volontario, basta la tua immaginazione. Lo spazio diminuisce sempre di più, le dita si avvicinano sempre di più, benissimo. E a questo punto se le tue dita si sono avvicinate allora vuol dire che sei ricettivo all'ipnosi. E puoi venire a provare l'ipnosi dal vivo insieme a me a teatro il 17 di settembre a Roma. Link in bio, ci sono tutti i dettagli e io spero di vederti presto. Ciao!